Il Taranto torna da Picerno con un punto d'oro vista la partita e 1-1 nel posticipo dell'Uni di Sera. I Rosso-Blu giocano con il 3-4-2-1 nella prima frazione di gioco 4-2-3-1 per il Picerno. Sin dal primo minuto si vede Canutè e Bifulco a sostegno di Pietro Cianci. Parte meglio la formazione del Picerno, al quarto c'è un cross di Graziani dalla destra, testa di Murano che non trova la via del gol. Nono minuto, guerra, cambio gioco da sinistra a destra dove c'è Pagliai in aria, il destro al volo termina sul fondo. Pagliai sarà impreciso ma il Taranto soffre sugli esterni, tant'è che i quinti devono spesso tornare indietro. La prima vera occasione per il Taranto arriva al quattordicesimo ed è una conclusione di Bifulco a Rimorchio servito da Canutè. Potenziale grande occasione per il Taranto e sembra quasi un gol sbagliato. Il gol viene subito pochi istanti dopo. Arriva la palla in aria ad Albadoro che tutto solo batte Vannucchi e 1-0 per il Picerno. 26esimo il Picerno sugli ali dell'entusiasmo con Esposito per Graziani che spreca tutto. 41esimo ancora il Picerno pericoloso su azione di calcio d'angolo battuto da Emanuele Esposito. Murano, tocco di testa di pochissimo, non riesce a trovare la via della rete. Due minuti di recupero, al primo il Taranto crea l'occasione più pericolosa del primo tempo. Cianci riesce in qualche modo da terra a servire Zonta che però tira e strozza il suo destro di poco a lato. Nella ripresa il Taranto cambia con Canutè che va alle spalle di Cianci e Samele. Quest'ultimo sostituisce Bifulco. Minuto 62 il Picerno chiede un calcio di rigore per un tocco di braccio da parte di Mastro Monaco. Troppo largo il braccio sinistro, rigore che poteva starci. Minuto 72 punizione centrale di Cianci. Pallone che gira poco ma Suma mette in calcio d'angolo. Esordio al minuto 75 di Fabbro che entra per Canutè. Entra anche Fiorani per Mastro Monaco. Pochi istanti più tardi c'è un calcio di punizione per il Taranto. Battuto da Zonta. Colpo di testa da parte di Cianci è 1 a 1. Minuto 82 il Picerno sfiora il vantaggio. Da poco entrato Diop così come è accaduto contro la Virtus Francavilla riesce a toccare il pallone quasi in maniera vincente. Di testa di pochissimo a lato. Sei minuti di recupero, non accade nulla. Il Taranto porta a casa dal Curcio un pareggio importante per proseguire in queste prime due giornate di campionato.